Ma io quanto ho puntato? Ah, 56. Io ho i 7 e 4, io ho i 7 e 4 una giri. No, io ho puntato, la Jack se c'è a me, c'è anche a lui, ma io sono più fuori. Vabbè, tanto la mia è l'ultima, perché io non ce l'ho più 100k, quindi posso passare, posso andare. No, 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 no. Ma io, Regina. Ah, Jack. Ma io, qui ci ha fatto? Ma io, mi chiede, guarda.